la mila 1 da mele 2 da mele 3 da mele 4 da mele 5 ecco buongiorno e guardate che bella giornata oggi oggi è che giornale oggi un attimo beh era bella giornata lì in fondo c'è la regnaia di francesco ecco dice sono la solita strada non l'hanno spostata e comunque l'amazzonia c'è ancora ecco c'è la signora lì che stanno passeggiando per quei signori ecco di là stupenda e c'è l'orticello il mio amico flavio dice la baita rossa e l'ha in mezzo ci sono anche gli animaletti e gli insettini di tonezza del cimone dell'amazzonia ecco dice sempre il fanciullo gesù lì sta tornando a piedi penso che sia il mio presidente ma non penso mattarella di sicuro non è comunque guardate è uno spettacolo tra un po arriveranno anche le pecorelle e tutti gli animali belli carini capriolo le lepri i lupi gli orsi un orso c'è già però dopo se ne andrà e lì c'è un sole e lì c'è un sole ecco qua buona giornata e lì c'è un sole ecco qua buona giornata